Buonasera a tutti, piccolo disclaimer, l'obiettivo di questo video è quello di intrattenere e non violare la privacy, per favore non bannatemi il video. Queste sono delle stelline natalizie bellissime, ho voluto cercare delle decorazioni per quello che potevo, molto carine, natalizie, super coccolose diciamo, e negli alberi, insomma, magari nel balcone, inquadrando il più vicino possibile, diciamo, perché non volevo che ci fossero problemi appunto. Questo è anche un alberallo che abbiamo trovato bellissimo. Devo dire però che non tutti hanno messo molte decorazioni, è stato difficilissimo trovare delle decorazioni natalizie, alcune sicuramente erano molto brutte, altre invece molto molto belline e sono stata fiera di fargli una foto o un breve scatto così, perché veramente erano belle, poi sono riuscita a abbassare la luminosità per farvi vedere maggiormente, scusate se troverete un po' di pali o casi questo tipo, e devo dire che mi sono piaciute veramente molto. Una in particolare la vedrete tra un po', e veramente le ho trovate carine, eleganti, alcune colorate, altre si sono soffermate, diciamo, prevalentemente sulla luce bianca, mentre altre luci ancora erano con una luce gialla. Altri invece hanno voluto fare molti colori, tantissimi alberi sono stati decorati, ho visto però pochi, tipo buonatali in giro, renne, cose di questo tipo, guardate che bello l'effetto sfogato qui di questa decorazione, ho cercato di farlo e mi piaciuto da matti, bellissimo questo alberallo, veramente carinissimo. Diciamo che sono decorazioni che viste quasi insieme, secondo me rendono tantissimo, sono bellissime. Guardate questa, questa è una decorazione bellissima, per favore non buttatemi giù il video, non mannatemelo. È veramente pazzesca, sono delle luci di altissima qualità, e sono bellissime con la stella cometa, le ho trovate pazzesche, ve lo giuro, bellissime. Tantissimo mi sono piaciute da matti, anche questa nel bordo, così. E anche questa qui sembrava troppo il villaggio di Babbo Natale, mi è piaciuta da matti. Questo anche, molto 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 carino, super super luminoso, secondo me, dava una luce molto profonda. Tra l'altro ne approfitto per questo video, per dirvi che in video usciranno tutti i giorni dell'anno, di quest'anno, del prossimo anno, alle ore 14, qui nel mio canale. L'unico eccezionale, diciamo, un motivo per il quale potrebbero non uscire, è perché magari non sto bene fisicamente, quindi non sono riuscita a montare un video, caricarlo, o per questo esatto motivo. A parte questa, anche l'illac con me, stavano giochiando un asset. Avrei voluto mettervi le canzoni natalizie, ma visto che ho paura per quanto riguarda il copyright, e non vorrei che ci fossero problemi, vi diamo questo pazzesco, vedete tutte le lucine, gli alberi, la cassetta natalizia. Passato davanti un uomo, non si sa per quale motivo, super, super carine, veramente. Però, secondo me, in alcuni momenti potrebbero fare ancora di più con le lucine, a mio avviso. Queste anche, c'erano, vedete, due renne, molto belle, però io le luci tutte colorate non le amo particolarmente. naturalmente le ho messe perché ho detto magari a qualcuno di loro piacciono, ma personalmente non le adoro tantissimo per il periodo natalizio. Mi sa più di Natale, diciamo così, e le luci dorate come queste, oppure quelle bianche, così rosse, no? Però le ha volute mia mamma, queste ha voluto metterle lei. Vi dico inoltre che, spero vi piacciono, tutti questi speciali dedicati al Natale. Non so quali avrete visto per prima, insomma, però ne ho fatto qualcuno e spero che lo abbiate apprezzato, che vi abbia fatto piacere. e davvero ci vengo molto, quindi, insomma, grazie mille perché c'è molto impegno, insomma, anche dietro alle idee per cercare di non essere banale. Anche queste delle luci, secondo me, con il buio, la sera per un ASMR, con un voiceover così ASMR, secondo me, poteva essere molto rilassante, almeno dal mio punto di vista, ovviamente. Guardate, in questo albero è bellissimo. E poi vi ho fatto vedere queste più ravvicinate, che sono una bellissima renna, molto, 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 molto bella. Supernatalizia, la stellina, e infine vi ho lasciato con una pioggia di lucine. Tantissimi baci, bracci, e una buonanotte, sognitoro a tutti voi. Ciao, 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 ciao.